Ammonta ad 1.880.000 euro lo stanziamento previsto da Regione Abruzzo per finanziare la campagna 2018 contro gli incendi boschivi. Ieri il sottosegretario alla presidenza della Regione con delega alla protezione civile Mario Mazzocca ha sottoscritto la convenzione con i vigili del fuoco e l'accordo di programma con i carabinieri forestali. Il comando regionale dei carabinieri forestali di Abruzzo e Molise era rappresentato dal generale Ciro Lungo e il corpo nazionale dei vigili del fuoco dal direttore regionale regente Giovanni Nanni. Di quasi 2 milioni di euro 840.000 riguardano la convenzione con i vigili del fuoco 35.000 quella con i carabinieri forestali 395.000 euro saranno utilizzati per il volontariato abilitato 250.000 per il noleggio di un elicottero dedicato e 90.000 per la sicurezza e la sorveglianza sanitaria. Altri 255.000 euro saranno a disposizione per la dotazione di dispositivi di protezione individuale 15.000 euro per la convenzione con i carabinieri forestali per il servizio Metomont. Nell'ambito della campagna antincendio boschivo verranno costituite sei squadre operative due per la provincia dell'Aquila e quattro per le province di Chieti, Pescara e Teramo.